Shalom a tutti, oggi vi voglio invitare ad una conferenza dal computer, un webinar mercoledì sera prossimo, nel quale parleremo di come migliorare l'aspetto e l'estetica del vostro appartamento con il minimo investimento sia di tempo che di denaro. Il webinar è adatto a chi sta pensando di vendere il proprio appartamento e vuole aumentarne il valore con poche modifiche, oppure, come dicevo prima, a chi vuole migliorare l'estetica del proprio appartamento ma non vuole né spendere troppo né entrare nel caos di una vera e propria ristrutturazione. La partecipazione è gratuita, iscriversi è semplicissimo. Se state guardando il video su Facebook cliccate sul link, arriverete alla pagina dell'iscrizione, inserite i vostri dati nel modulo e cliccate su iscrivimi. Se siete già nella pagina dell'iscrizione basta inserire i vostri dati nel modulo e cliccare su iscrivimi. Subito dopo l'iscrizione riceverete un'email di conferma con il link al webinar e le istruzioni per collegarvi. Niente paura, è semplicissimo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo.